Beh, il solito nulla, beh, il solito niente, abbiamo trovato rosso e blu, versione let's go, e poi Seismy Todd, nuovo e no, spasso le verso, il nulla, andiamo avanti Devi essere ottimista come Federic, va bene, dai, facciamo come Federic, forza Allora, per vedere le generazioni L'ultimi cinque pacchetti Ok ragazzi, allora, vediamo, come vedete, questo artwork di Arita con Blastoise e Piplup Meraviglioso, c'è scritto Pokemon, sotto gioco di carte collezionabili E ovviamente Sole e Luna, che è il brand di Gando E poi Eclisse Cosmica, dieci carte, attenzione, da gioco, aggiuntive Al peso, beh, insomma, non lo so ragazzi Odora di palle, probabilmente c'è una GX Sculo Federic Wow, ragazzi, oh, guardate come si sbusta Oh, 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 eh, no ragazzi, non perché lo rincollate, eh, no, no, non è assolutamente così Allora, codicino, solo Federic ve lo regala, attenzione Eh, ragazzi, incredibile Oh, guardate questo back, meraviglioso ragazzi, coloratissimo In perfetto stile Pokemon Allora, facciamo il solito trichettino Uno, due, tre, quattro Forse questa texture mi suggerisce qualcosa Però, vediamo, dai Un Sanshu di Alola Attenzione, molto, molto carino Snorunt Coffee Questo Drillbur, ah, guardate Bosco, eh Swirlix, oh, che carino Uh, un Energia Folletto, incredibile Guardate ragazzi, come rosa E poi abbiamo un Dartrix Wow E poi, wow, Cosmo M E poi un Mawile Mamma mia ragazzi, che bellezza questo artwork E poi abbiamo Oh, bello Un fantastico Dio Cristo, Dio, vorrei morire in questo momento Eh, ah, no, amici social Perse andialola GX Beh, possiamo dire una delle alola più belle Non trovate ragazzi? Eh, sì, sì, vabbè Ah, dai, ma dai, Agnese Ma addio, madonna Ma wishy-washy e perse andi merda Dai, andiamo avanti Sì, vabbè, me lo metto nel cazzo Allora, Eclisseco Questo artwork forse è il più splendido Dei pacchetti, ragazzi Pesa, 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 pesa Wow Ragazzi, vediamo subito il nostro Rowlet Simpaticissimo, come sempre Coloratissimo Codicino È solo Sculo Federic Vi dà questi codicini, ragazzi Trucchetto Non ho sentito niente Purtroppo, ragazzi Questo pacchetto Mi sa che No, 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 no Sculo Federic Niente Niente Vabbè, comunque abbiamo Rowlet Il solito Fampo Pumps Abbiamo Magnemavu Abbiamo Lilipov Abbiamo Trapipov Poi abbiamo L'energia Acqua Flabebebu Abbiamo Velubebu Edbebu Poi abbiamo Mimico Attenzione, è fatto di Pongo Questo ci manca, ragazzi Questo va direttamente In collection E poi, attenzione, abbiamo Oh, oh, oh La merda Che bello Snorunt È fatto di Pongo Dio, madonna, ragazzi Attenzione, ultimi tre pacchetti Dello sculo Federic Chissà cosa ci riserva Attenzione, qui abbiamo Solgaleo e Lubub Ma perché? Ma non parla così Se non è che si inventa i nomi Allora, ragazzi Codicino Solo sculo Federic Non so se ve l'avevo già detto Vi dà questi codicini È una cosa che non fa nessun Youtuba Oh, 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 oh Qui sento del vibragno, ragazzi Qui sento della serigrafia Attenzione, ragazzi Forse Forse è il momento Dello sculo Federic Qui abbiamo un Kotonibu Un Roller Bibu Un Fanto Bibu Un Grammar Delola Bibu Un Mag Bibu Un NGSQ Bibu Un Heracloss Che non avevo mai trovato Molto dinamico In perfetto stile Federic Wow Vabbè Poi abbiamo Un Aracuanani Bibu Questo, tra l'altro È l'evoluzione Del primo Che è Gimanga Abbiamo il trotto Di Kensugimori Bibu E attenzione Abbiamo Ora non ti lamentare Oh, ecco qua Un Hyper Tra l'altro Abbiamo trovato E questo è sculo Federic Per davvero E poi un Ralse Il Cazzo Comunque abbiamo Abbiamo Gil Bibu E Megalopani Bibu Questo, ragazzi Come vedete Effetto straordinario Oddio L'ho scelta Sì, sei vero L'ho scelta Oddio Comunque Bellissima Sculo Federic Ha funzionato Anche oggi Non lo metti Nella sleeve Sì Ora Porta un portano Se che ho fatto Tutto dopo Porta un cazzo Io non ho parole Veramente PS10 Va bene Ultimi due pacchetti Dello sculo Federic Ragazzi Attenzione No, ora faccio tuberanza Vai Mi trasforma in tuberanza Pronti? Vai Ciao a tutti Bella a tutti ragazzi Oggi con voi Il vostro amico Tuberanza Ragazzi Benvenuti Incredibile Oggi Eclisse Cosmica Nuovo set Pokémon In esclusiva Per voi Col vostro amico Tuberanza Tuberanza Allora Andiamo avanti ragazzi Che cosa ci aspetterà Quest'oggi Nessuno lo sa Ma io sono molto Molto convinto Che oggi È il nostro giorno Fortunato E adesso Qui No amore No Non scherzo No perché Respira forte Qui abbiamo Un codicino Attenzione Ragazzi Eccetera Chissà cosa ci aspetta Adesso 1 2 3 4 Anche tu Perché è una sorta Di Deosex Machina Di tutti Gli spacchettatori Un gollet Una merda 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 E non abbiamo avuto fortuna Questa volta ragazzi Vabbè Peccato Ma il prossimo pacchetto Sicuramente Sicuramente Egnà Andiamo avanti ragazzi Vediamo cosa ci aspetta Nel prossimo pacchetto Di Eclisse Cosmica Con il vostro amico Tuberanza Lasciate un like ragazzi Se siete in hype Per il contenuto Di questo pacchetto Ah ragazzi Vedete Lo sto aprendo È incredibile È bello aprire le cose Ah Questo è il codicino Attenzione Bene Andiamo avanti ragazzi Non temiamo Il Bombdig Allora ragazzi Una merda 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 E attenzione Concludiamo Con una bella merda Benissimo ragazzi È stato bellissimo Lasciate like Se volete ancora Spacchettamenti Arriviamo almeno A 20.000 like Se volete Un altro Spacchettamento Dio E poi Madonna Alla prossima E veramente Sempre amici In gamba Di tuberanza Non so qual è il saluto Ciao Va bene Comunque ragazzi